Quando mancano poche ore alla quarta puntata del Grande Fratello Vip, i telespettatori non parlano d'altro che dei baci che si sono dati Manuel e Lulu durante la notte. Se da un lato c'è chi sta gioendo nell'assistere alla probabile formazione della prima coppia della sesta edizione del reality show, dell'altro sono in molti a dubitare su questo avvicinamento, soprattutto da parte di Aile Selassie. Alessandro Rosica non nasconde le perplessità che ha nei confronti di una delle tre sorelle etiopi e, a supporto di ciò, ha deciso di condividere su Instagram un breve video che potrebbe avvalorare la sua teoria e quella dei più scettici. In un filmato che sta circolando sui social si vede Lulu parlare con una delle sorelle in bagno. Avrei potuto dedicarmi solamente a lui, dice Lucrezia nel breve dialogo con un altra delle principesse del cast. Quest'ultima le risponde prontamente, a Luca. Sia Luca, al mio Luca. Ribatte la giovane senza dare ulteriori spiegazioni che potevano fare chiarezza sulla persona che è stata citata. Nella casa del grande fratello, Vip, a tarda sera. Voi cosa ne pensate?